La paura che ho io è che si tenda, come vedo spesso, a voler creare delle grosse banche distaccate dai territori che magari fanno solo grande finanza, perché questo ovviamente non aiuta soprattutto il nostro sistema economico delle piccole e medie imprese che per poter andare avanti, per poter fare degli investimenti, ma così come tanti cittadini che magari vogliono comprarci da casa, hanno bisogno delle banche e ovviamente se una banca è più territoriale tendenzialmente dovrebbe essere più vicente ai cittadini. Abbiamo visto che purtroppo in questo caso non è stato così assolutamente, però la mia paura è che si creino solo grandi agglomerati di banche che poi ovviamente sono completamente avulsi dalle realtà locali e che facciano totalmente quello che vogliono.